ed ecco il nostro salec chi ci prepara? il tè alla pesca? all'intossicamento di fumo e come ci dice salec sopra la nostra jeep in alto in alto in alto c'è l'immagine di una testa cornasino ecco salec alla preparazione del nostro tè ok è ok tu dentro le orecchie ci vediamo la terra va beh sto rivegliando lo vogliamo far sapere a tutto youtube? ecco qua il nostro tè eccolo lì madame prendilo già brucia va a dire ma neanche lui si arriva in sala